Sono Domenico Di Stefano, presidente del Consorzio di Tutele Pesca di Leonforte GP. Il Consorzio di Tutele Pesca di Leonforte GP nasce nello scorso anno ed è un consorzio costituito da 17 produttori e confezionatori. All'interno del nostro consorzio abbiamo una produzione molto rappresentativa sul territorio, raggiungiamo circa il 90% di tutto il prodotto certificato. Oggi il Consorzio di Tutele ha molte azioni per la promozione e la valorizzazione della pesca di Leonforte. Questo è uno dei momenti iniziali per la presentazione della nostra organizzazione. Sono Rita Serafini, direttrice del Consorzio di Tutele Pesca di Leonforte GP che è stato riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole lo scorso 21 aprile. I compiti istituzionali di un consorzio di tutela sono quello della promozione, valorizzazione, tutela e salvaguardia della denominazione di riferimento. In questo senso ci siamo già attivati all'interno del consorzio, costituendo una struttura molto snella e smart per lo sviluppo di queste attività. Si è svolto ieri e oggi un evento molto importante, il nostro primo educational tour rivolto a operatori di settore professionisti, con il quale abbiamo voluto presentare e presentare sul territorio tutto quello che riguarda la denominazione di riferimento, quindi la pesca di Leonforte GP. C'è stata una sessione di approfondimento teorico, due degustazioni, una semplice e l'altra comparata, anche la recitazione di una poesia su Leonforte.